Madonna non ha resistito ai ritmi travolgenti della pizzica e ha festeggiato il suo 59esimo compleanno con un ballo scatenato, nel resort extralusso di Borgo e Gnazia a Brindisi La cantante ha pubblicato il video della sua esibizione sul suo profilo Instagram, attraverso il quale, come già accaduto lo scorso anno, tiene aggiornati i suoi 9,8 milioni di followers sulle vacanze che sta trascorrendo a Saveletri, insieme a due gemelle prese in adozione in Malano La cantante ha pubblicato il video della sua esibizione sul suo profilo Instagram, attraverso il quale, come già accaduto lo scorso anno, tiene aggiornati i suoi 9,8 milioni di followers sulle vacanze che sta trascorrendo a Saveletri, insieme a due gemelle prese in adozione in Malano La stessa artista ha postato intorno alle 5 del mattino alcuni video della serata all'insegna della pizzica Quello in cui si scatena davanti ai tamburellisti che indossano abiti tipici delle tradizioni pugliesi è stato visualizzato da oltre 293 mila persone in poco più di tre ore Quello in cui si scatena davanti ai tamburellisti che indossano abiti tipici delle tradizioni pugliesi è stato visualizzato da oltre 293 mila persone in poco più di tre ore Quello in cui si scatena davanti ai tamburellisti che indossano abiti tipici delle tradizioni pugliesi è stato visualizzato da oltre 293 mila persone in più